Una serie animata di Amazon su Crash Bandicoot è stata cancellata, o almeno questo è quanto emerso nelle ultime ore da un leak, ora eliminato, che parlava di un intero anno di lavoro buttato via. Ci sono però diversi dubbi sull'autenticità del rumor, che continua ad avere alcuni sostenitori. Proviamo allora a fare un po' di chiarezza. Stando a quanto riportato su Reddit, Amazon avrebbe cancellato una serie animata dedicata a Crash Bandicoot. Il creatore del post, ora sparito dalla circolazione, affermava che il progetto era partito un anno fa, allegando alla sua dichiarazione la presunta Bibbia dello sviluppo e, soprattutto, una prima bozza di quello che sarebbe dovuto essere l'inizio dell'episodio pilota. Sebbene non ci siano stati annunci ufficiali riguardo l'esistenza di questa serie, un indizio sulla sua produzione risalirebbe al dicembre 2019, quando l'animatore Bill Copp aveva fotografato il producer Jeff DeGrandis di fianco a un gigante poster di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. E la didascalia sembrava proprio una domanda retorica. Cosa diamine pensate stia succedendo qua? Io proprio non ne ho idea. Per chi non lo conoscesse, Copp è un animatore abbastanza noto nell'ambiente. Ha lavorato non solo su Ick the Cat, ma anche in alcuni corti su Roger Rabbit, su Tom & Jerry, i Looney Toons e persino i Simpsons. Quella foto, unita alla sua presenza al quartier generale Activision, lasciava intendere solo una cosa. Un cartone animato su Crash. Nonostante tutto restano alcuni dubbi su questo leak d'inizio anno, sollevati già all'interno della discussione su Reddit. Innanzitutto, la qualità dell'animazione sembra far pensare al lavoro di un fan, soprattutto a causa di alcune somiglianze di Cortex con Rick di Rick e Morty. In secondo luogo, risultano sospetti i documenti allegati al leak, ora non più disponibili, che mancavano di indicazioni sulla loro confidenzialità ed avevano una data di creazione piuttosto bizzarra. Primo aprile 2020. Prima di bollare tutto come un pesce d'aprile, fuori tempo massimo, però, ci sono alcuni punti da tenere in considerazione. Su Resetira l'utente WrestleMania ha dato credito all'indiscrezione, citando alcune sue fonti anonime che si sono trovate improvvisamente senza lavoro. Il video in questione, inoltre, è apparso anche su Twitter, in una forma leggermente diversa da quella di Reddit. Se nei fatti questo non dimostra nulla di concreto, avere un rumor avvalorato da tre fonti diverse lo rende quanto meno degno di attenzione. Mentre registriamo questo video, quindi, non è chiaro se il filmato sia autentico oppure no. Ma non è la prima volta che vediamo un cartone animato di Crash. Già nel 2015, infatti, erano emerse alcune scene animate in 2D realizzate, ma mai utilizzate, per il primo Crash Bandicoot di Naughty Dog. E in un periodo dove il brand Activision appare in buona forma e le opere ispirate ai videogiochi invadono praticamente tutti i media, con serie tv come se piovessero, l'idea di vedere un cartone ufficiale di Crash non è fantascienza. Se le ultime voci sono corrette, però, potrebbe volerci più tempo del previsto. E a voi piacerebbe una serie su Crash? E quale stile di animazione vorreste? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e, se avete trovato questo video interessante, lasciate un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. Ne volete altri? Allora iscrivetevi al canale cliccando sulla campanellina, così da non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Qui accanto trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, mentre a me non resta che ringraziarvi per aver guardato e darvi appuntamento al prossimo video, sempre qui su Multiplayer.it